Oggi torniamo su questa vicenda del progetto di impianto di biometano, dopo che nei giorni scorsi avevamo già sollevato un aspetto gravissimo di questa vicenda, cioè la mancata partecipazione del comune di Pescara al bando del PNRR appositamente dedicato a progetti di questo tipo. Ed è assolutamente impensabile che un comune come Pescara, che versa in situazioni economiche, come ormai sappiamo, praticamente disastrose, possa permettersi il lusso di perdere il treno del PNRR e poi imbarcarsi nello stesso progetto che, anziché essere finanziato appunto a fondo perduto, ora rischia di costare 30 milioni di euro che direttamente o indirettamente ricadranno sulle spalle dei cittadini. Oltre a questo, poi, andando a verificare i dettagli del progetto, emergono degli elementi che danno alla vicenda un contorno ancora più preoccupante, perché i 30 milioni di euro verrebbero garantiti per metà dalla Banca Europea degli Investimenti, con un finanziamento che comunque andrà restituito nel corso degli anni, quindi comunque con dei soldi pubblici che dovranno tornare alla BEI. E per gli altri 15 milioni di euro, attraverso un finanziamento privato, è un project financing. Un project che però si regge su un accordo che in realtà ci legherebbe mani e piedi agli interessi di questo privato, e non certo facendo quelli dei cittadini, perché questo piano economico-finanziario si regge su una quota minima che al privato dovrà essere comunque garantita, cioè che arrivino o non arrivino i rifiuti organici da conferire e da smaltire, il privato comunque ci guadagna, perché l'eventuale differenza che manca la pagherebbe Ambiente, che è una società partecipata, quindi si parla di soldi pubblici, soldi dei cittadini. E dall'altro lato ci sono delle clausole assolutamente vessatorie, con le quali noi cediamo senza colpo ferire, tutti i futuri incentivi statali per la produzione del biometano direttamente al privato. E si parla di fondi che possono andare da 1 a 2 milioni di euro all'anno, quindi con buona pace e diciamo delle tanto sbandierate intenzioni di abbattere i costi dell'Atari.